Ciao ragazzi, oggi siamo qui, ritornati su Ghost Recon Wildlands Mi sembra sul tredicesimo, raga io lo spero un numero a muccio Non fate caso Raga, ora in questa missione dobbiamo distruggere i tavoli e le macchine da gioco Così invieremo il messaggio alla Bolivia Per dire che il risultato di Karzita non è sicuro come dice Santa Blanca Voglio dire di andare subito Senza aspettare altro Chiaro che sono arrivati, già ho eliminato un bel po' di nemici Mori Fuoco Mamma Eh raga, distruggiamo tutto Ho chiesto ai ribelli di darci una mattina Al mio via, fuoco Ricevuto Ah ecco dove stanno Buttiamoci una granata qua Bomba, il primo di quattro fuori Granata come mierda, culeros Altri cinque fatti, raga Un altro fatto E' a tredici Passiamo a quelli sopra, ragazzi Sto distruggendo anche quelli sopra Dai, tutti i soldi scendono Mato Guarda, 32, ancora quanto ne mancano? Ah, giù E guarda, ne mancano pochi Tanto che sto andando nella cassa fuori Dove non prendere la munizione Che Tutti finiti Tutti Tutto Nanto Ci buttiamo una bella granata Eh ma Eh ma Ma che cosa vuoi? Ma che vuoi? Ma che vuoi? Ma che vuoi? Ma ci mette davanti a questa persona? 39 Vai via, vai via Vai via 40 41 E 42 E finalmente E finalmente Missione completare ragazzi E anche questa è stata completata Ok ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se fosse così ragazzi Bolleggiano su Commentate Condividetelo Se siete iscriviti Iscrivetevi E poi se potete mettere la vostra Capita E ci vediamo Grazie